La cosa più difficile nella guerra è che non sai chi è il tuo amico e chi è il tuo nemico. Si vive, c'è la violenza, si va avanti, perché, come, dove andiamo non si sa. Ecco, questa è la situazione della Chiesa in Siria e della tutta la popolazione che vivono così. Don Basilio Maher, parroco di San Paolo a Sansepolcro, vive in Italia ormai da anni, ma non può dimenticare la terribile situazione del suo popolo e del suo paese che dopo decenni di stabilità e guerra civile da due anni vive sotto le bombe. A conclusione del convegno diocesano di Laverna ha voluto portare la sua testimonianza e unirsi all'appello lanciato da Papa Francesco e all'iniziativa della fiaccolata di questa sera proposta da Diocesi, Comune e Provincia di Arezzo. Ecco l'iniziativa del Santo Padre, ecco della Diocesi, dei Comuni, di queste iniziative bellissime perché noi vogliamo la pace, la pace è quella che viene dal Signore Gesù, non altra pace. Io auguro per la Siria e per tutte le popolazioni che stanno in guerra di arrivare alla pace vera dove ogni persona umana ha la sua degnità. Senza fare guerre, senza ammazzare la gente, senza fare i nostri calcoli umani, economici, di quelle che è, non serve a nulla. Cerchiamo di salvare e rispettare l'uomo.